Salve Hola gamers e benvenuti in questo nuovo video, sono Andy Gamer E' arrivato un momento che non pensavo neanch'io potesse arrivare Però sono tornato Questo è un momento che ritengo molto particolare, anzi molto speciale E' passato veramente tanto, troppo tempo dall'ultima volta che ho pubblicato un video E spero di ritornare più continuo nel fare i video Anche se purtroppo non penso con la vita scolastica Però oggi siamo tornati su un gioco di FNAF Questo gioco è Five Nights at Freddy's Fuzzbear Nights E vediamo com'è E' un gioco free roam E ciò vuol dire che possiamo andare in giro E' proviamolo Mamma mia E' buio Non si vede niente Non Non si vede nulla Come si corre? On shift Ok Vedo un attimo nell'impostazione si può mettere un po' più luminoso Eh Non è che sia cambiato Tanto Io una cosa che vorrei trovare è l'ufficio Ehm Dove si trova? Dove sta l'ufficio? Aspiterina Non c'è l'ufficio Dove? Questa? No E' qui Eccolo qua Eccolo l'ufficio Chi è subito? Tai Come si selezionano le cose? Ehm Non c'è un piccolo problema Non posso guardare le telecamere Non si vede ancora Come si fa? Come si fa? No no Dai Dai su Seleziona le telecamere Che cazzo Spisa Non c'è un libro Che che cos'è? Non si può leggere Niente Non riesco a capire Come si selezionano le telecamere Dai Qui sullo schermo? No Sul giornale non penso proprio Sul ventilatore Tanto me Aspettate un attimo Niente Abbiamo un problema Non so come si Selezionano le telecamere Premiamo tasti a casa Questa è la torcia Ok D No niente Ovviamente Andiamo a premere tutti i tasti Niente Sempre la torcia Cosa ho premuto? E? E si guardano le telecamere? Ok Qui abbiamo Freddy, Chica e Bonnie Foxy mi serve Dove? Cam Eccolo qua Bene Ok Siamo a cavallo Siamo a cavallo Abbiamo le Abbiamo scoperto le telecamere Però Abbiamo la batteria Che scende troppo velocemente Che cosa ho fatto Per far scendere velocemente La batteria Ehi Chi è? Dai su Eh vabbè Chi è che canta? Dove va quel deficiente? Oh No Dai su E la prima Mi sa che Non arriveremo tanto facilmente Alle 6 di mattina Però non si vede Niente Ancora Basta C'è nessuno Oh Chi è che si piazza Davanti alle porte? Io rientrerei dentro Perché sono le 5.30 Ancora camminare? Basta Chi è che cammina? Non si cammina A queste ore Come si Ah con Ah Ok Bene 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 Siamo a cavallo Io mi Mi chiudo però Perché Me lo so Me lo posso permettere Di chiudere Sono le 6 di mattina E la prima notte È andata Non mi sono neanche Per una volta Spaventato Perciò Procediamo alla seconda Sperando che comunque Vada diciamo meglio Notte 2 Se io potessi però ritrovare l'ufficio Al primo tentativo Ne andrei felice Ne sarei felice anzi Ehm Peccato che Un'impresa Trovarla Al primo colpo Forse qui Esatto Ok Voi due mi fare Voi tre mi farete uscire di testa Se ha anche quell'altro Quel Quell deficiente Qui Ma io Allora io mi chiedo No Ma questa porta qui Che cosa c'è dietro Non si può neanche aprire Eh vabbè Peccato Nessuno Osa muoversi Io sinceramente Rimarre con la torcia accesa Anche se non so se Possa essere quello Il La causa Del Della batteria che scende Ma non penso Perché Vabbè Non facciamoci troppi viaggi mentali Vado a farmi un giro Mamma mia Buissimo Non si vede niente Non si vede Ma io vorrei Ma che caspita Di poster È questo Perché Perché è così Certo che la musica Comunque non è confortante È veramente Ansiogena Inquietante E tutti gli aggettivi negativi Con la quale si può Si può descrivere Eh no 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 Chi cacchio è Chi è che è qui Io me ne rientrerai però Perché ho sentito rumori Un po' Questa canzoncina qui Non Non mi ha confortato Guardiamo le telecam Sono tutti via Benissimo E Questo qua mi sta guardando Perfetto Oh Donnell Ancora Come si è Non mi fa uscire Non mi fa uscire Non mi fa uscire Oh No Ah beh Subito la torcia E si corre all'ufficio Perché Mi sembra che fosse di qui Non qui Però In tessero qualche cartello In giro Oh Eccolo qua Bene Ho spento il ventilatore Perché si muove ancora Se è spento Si muove ancora Vabbè Vabbè Gli altri sono ancora qui Bene Good Pavimento bagnato Ma non mi sembra Questo è un bel tappetino Che peccato Sarebbe un peccato Se qualcuno lo sporcasse Per sbaglio Camminandoci sopra Sarebbe veramente un peccato Eeeh Tutti via Oddio Chi è che è posseduto C'è qualcuno che No no Non iniziamo così la terza notte Dai Eh Ma perché Chi è che parla Eh No Cosa guardi tu Che cos'è che guardi tu Allora Facciamo una bella cosa Mi tappo un attimo Ma solo un attimo E questo se n'è andato E dove? E dove? Eeeh Tutti lì Manca solo quell'altro Imbecille Che non so dove Guarda Guarda Dove vanno Corrono Dove Dove State andando Quello cammina lentamente L'altra E' una pazza Cica E' impazzita Guarda Fuori dalla porta Ho paura però Di aprire Non mi sembra Ci sia nessuno Qui No 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 Piuttosto guarda Mi finisce la batteria Piuttosto Però Non mi fido Vabbè La lascio aperta Però Quello che mi ha spaventato E' che appena ho aperto la porta Si è sentito la risata sua Dove? Possibile che non si veda Nelle telecamere Eeeh Però Qua Le musichette Che Silenzio Durante il mio turno Caspiterina Basta Ridere Non si ride 17% Eeeh Ciao Mamma mia però No è la fine Era la mia fine E' stato bello Che cos'era? Addio È stato un piacere Ragazzi Che cosa succederà Adesso No 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 Oh 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 Oddio No 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 Questo video finisce così Finisce qui anzi Non ce lo prendo la mano a rifare i video Non so più come si fanno Noi ci vediamo in un prossimo video chissà quando Probabilmente continueremo questo gioco E Ciao raga